Torna in casa con l'obiettivo di mettere uno stop alla striscia di tre sconfitte consecutive, l'Europea 92 Sernia, che domani pomeriggio, primo servizio alle 18.30, ospiterà sul parcheggio del Palafra Raccio e il Modica. Complici di stravolgimenti legati al ritiro dal campionato dello scapati, le Blue Fuchsia ora sono scese sino al settimo posto in classifica a quota 21 punti. Peraltro per il tecnico Francesco Montemurro non sono finiti i momenti difficili, in considerazione di un'altra settimana in cui il gruppo non ha potuto lavorare al meglio per via delle problematiche fisiche alle due registe, Katia Miotti e Giada Guarino. Per le pendre, tra l'altro, c'è anche da riscattare al precedente dell'andata. In Sicilia, avanti 2-7-0 e con la possibilità di chiudere la contesa nel terzo, le Blue Fuchsia alla fine dovettero cedere il passo al tie-break. Grazie. Grazie.